Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi parleremo di denaro. E se siete curiosi di fare qualche piccola riflessione insieme a me, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ho deciso di intitolare questo video I soldi fanno la felicità. Prendendo spunto da un libro che avevo già letto e che sto rileggendo per la seconda volta di Alfio Bardolla. Se mi seguite nei miei vlog sapete che ho iniziato proprio un percorso di formazione finanziaria, formazione per la gestione delle mie finanze. E questo significa semplicemente che mi sto formando per imparare a gestire le mie risorse economiche, qualunque esse siano. Allora ho deciso di fare questo video perché volevo fare qualche piccola riflessione insieme a voi a proposito del denaro. L'altro ieri su Instagram ho pubblicato un post in cui vi chiedevo quale fosse la vostra situazione finanziaria e come la vostra situazione finanziaria vi facesse sentire. Ovviamente non è che volevo sapere la vostra denuncia dei renditi ragazzi, però era semplicemente riuscire a capire qual è il rapporto di ognuno di noi con la propria situazione finanziaria, quindi con il proprio denaro, la propria situazione ovviamente anche patrimoniale e capire se effettivamente questa situazione ci sembra precaria o ci dà sicurezza o ci fa sentire bene, ci fa sentire male. Queste riflessioni le sto facendo perché? Perché soprattutto nell'ultimo anno per tanti di noi le sicurezze, soprattutto dal punto di vista economico, sono cambiate radicalmente. Persone che non avevano mai messo in dubbio il loro stile di vita e il loro lavoro si sono ritrovate a dover chiudere bottega, ma proprio nel vero senso della parola purtroppo. Alcune si sono ritrovate in cassa integrazione, alcune si sono ritrovate letteralmente sommerse di debiti e senza poter accedere ad alcuna entrata. Questo ovviamente ha portato un grande squilibrio nella nostra società e un grande squilibrio in quella che è la condizione economica in cui versa oggi la società italiana. Mi riferisco all'Italia perché è il paese ovviamente che comprendo di più in questo momento, alle cui informazioni ho maggiormente accesso. Quindi in realtà mi viene da farmi tante domande. Innanzitutto faccio una riflessione e rimango davvero allibita nel rendermi conto in maniera così esplicita che nonostante molti di noi abbiano fatto più di vent'anni di scuola, abbiano percorso più di vent'anni di studi elementari, medie, superiori, università, la maggior parte di noi sia davvero molto poco abituata in maniera corretta a gestire le proprie finanze. La maggior parte di noi alla fine dei propri studi si è affidata a quello che è un'idea di carriera e di lavoro che è quella che ci è stata inculcata, ma non tanto dalla scuola quanto più magari dalla famiglia o dalla società in cui viviamo. Checco Zalone ci ha fatto un film stupendo dedicato al posto fisso e al mantenimento del posto fisso. Sicuramente i benefit del posto fisso o del posto statale e fisso sono veramente tantissimi, però secondo me al giorno d'oggi dobbiamo avere la capacità di essere un pochettino più fluidi sia riguardo all'organizzazione della nostra vita sia riguardo all'organizzazione e alla gestione di tutto quello che è la nostra entrata finanziaria, di tutte quelle che sono le nostre entrate finanziarie. Perché? Perché come abbiamo visto purtroppo durante quest'anno, se abbiamo un'unica entrata e quell'entrata va in crisi per qualsiasi ragione, ovviamente non ci potevamo aspettare, la pandemia mondiale era forse l'ultima delle cose che ci potevamo aspettare, però come vedete anche l'ultima delle cose che ci possiamo aspettare dalla vita, purtroppo arriva, può arrivare. Quindi avere una sola fonte di reddito, una sola entrata, significa essere in pericolo anche se quell'entrata ci sembra un'entrata sicura, ci sembra un posto fisso, ci sembra un posto che non potrà essere scomposto da nulla, anche se quell'entrata ci sembra un'entrata sicura. A un certo momento quell'entrata diventa precaria, a un certo momento ci ritroviamo in cassa integrazione, a un certo momento ci ritroviamo a dover gestire una situazione che ci fa spendere molto di più di quanto sia la nostra entrata. E a quel punto la nostra vita si sbilancia, la nostra vita inizia ad essere precaria, la nostra vita inizia a non avere più un equilibrio garantito da quell'unica entrata. E questo per alcuni è stato veramente un grosso problema, ma un problema enorme. Quindi perché vi dico che i soldi fanno la felicità, perché purtroppo ragazzi mai come in questo periodo ci siamo resi conto che i soldi servono. E ragazzi ve lo dico io che due mesi fa ho pubblicato un video sulle dieci cose che non si possono comprare col denaro. E anche qui vorrei fare un video perché è molto difficile cambiare il mindset che abbiamo e che è legato alla nostra esperienza con il denaro. Comunque mai come in questo periodo stavo dicendo abbiamo visto quanto sia indispensabile il denaro, non solo per arrivare a fine mese e quindi il fatto di avere magari un gruzzolo da parte, il fatto di non avere delle altissime spese, il fatto di saper gestire le entrate e le uscite, il fatto di avere delle liquidità, il fatto di avere delle fonti di reddito alternative, è importantissimo per garantirci la vera e propria sicurezza. Ma abbiamo visto quanto se ne spende di denaro. Nel mio caso, e vi porto il mio perché ovviamente ho titolo di parlarne dato che mi è successo personalmente, ma sono sicura anche perché me lo avete scritto che anche per voi è stata la stessa cosa. Nel mio caso ragazzi, il solo fatto di dover spostare mio papà in ambulanza ogni due per tre, perché sapete che ha avuto delle problematiche indicibili, lui è malato di cuore e ha, lui nella fattispecie è un cardiopatico e diabetico, per cui durante quest'anno di coronavirus purtroppo la sua malattia, le sue patologie non sono andate in vacanza. E siccome io non lo potevo accompagnare, perché ovviamente non potevo stare in macchina con lui, perché mettevo a rischio lui o mettevo a rischio me, e mia mamma non se la sentiva di fare viaggi molto lontano, perché lui era stato ricoverato a Lecco proprio perché gli ospedali qua in zona erano pieni di covid eccetera eccetera, fare avanti indietro con l'ambulanza a pagamento a Lecco vi garantisco che è stata una bella spesa. Se non avessimo avuto dei soldini per farlo non l'avremmo potuto fare. Come avremmo potuto fare? Come avremmo potuto portare mio padre avanti indietro? Mio padre avrebbe rischiato a casa, sarebbe rimasto a casa e avrebbe rischiato a casa e l'hanno preso non una, non due, ma tre volte per il rotto della cuffia nel giro di un anno. Idem con patate quando è stato di me. Nel 2018 io ho avuto un cancro, me l'hanno diagnosticato, mi hanno trovato una metastasi il 31 luglio e fino al 13 di settembre io non riuscivo a sapere dove fosse questo cancro, perché mi facevano degli esami e nessun esame riusciva a dare con chiarezza una risposta. Finché ho deciso di pagare di tasca mia, se non mi sbaglio, tra tutti gli esami e le visite che ho fatto nel giro di quei pochi mesi, ho tirato fuori 3000 euro e finalmente il 13 settembre si è capito dove avevo il cancro, se no andavo avanti chissà per quanto altro tempo. Quindi ragazzi, anche semplicemente per garantirsi proprio le basi, ovvero la salute, un piatto da mettere in tavola, le bollette da pagare, la luce, il telefono, i giga ragazzi, i giga che sono diventati indispensabili perché tutte le famiglie si ritrovano ad essere genitori in smart working e figli in dad, quindi in didattica a distanza, quindi praticamente non è più un optional avere la connessione internet ed averla che funzioni velocemente. È diventato indispensabile, esattamente come è diventato indispensabile avere degli spazi in più, perché se un tempo la scuola si faceva fuori, il lavoro si faceva fuori e in casa si condividevano solo dei momenti, diciamo così, recreativi, ludici e quindi gli spazi potevano anche essere un pochettino più ristretti, oggi questo non è più possibile. Bisogna avere degli spazi perché sennò non si riesce a lavorare mentre i bimbi fanno i compiti, mentre i bimbi fanno la dad o mentre i bimbi giocano. Quindi in quest'anno ci siamo accorti quanto tutto possa diventare molto più dispendioso e quanto le nostre entrate possano improvvisamente scarseggiare. E quindi ragazzi, la cosa su cui mi viene da riflettere e poi questo video lo chiudo qui, è che al di là del fatto che la felicità è una condizione interiore dell'anima, non dipende dal denaro, non dipende dall'esterno, non dipende dalle altre persone, dipende solo ed esclusivamente da noi, ma quanto il denaro può rendere la nostra vita più facile? Quanto il denaro può assicurarci delle certezze in più rispetto alle cose basilari della nostra vita, che riguardano noi personalmente e i nostri cari, che riguardano il nostro cibo, il nostro poterci permettere di rimanere in salute anche quando magari sorge qualche problema. Quindi quanto i soldi nella nostra vita sono importanti? Fatemelo sapere con un commentino qui sotto, ovviamente. Non parliamo di ricchezza interiore ragazzi, in questo canale si parla sempre di ricchezza interiore e voglio fare un video dedicato proprio alla ricchezza interiore e alla ricchezza esteriore e ve lo farò, ve lo pubblicherò sicuramente su questo canale tra poco. Però parliamo proprio della ricchezza quella materiale, quanto la ricchezza materiale può aiutarci ad avere una vita più facile, meno difficile e quindi più spensierata, che non ha nulla a che vedere con la nostra felicità interiore, ma ha a che vedere con la facilità con la quale noi possiamo portare avanti la nostra vita, la facilità con la quale noi possiamo raggiungere i nostri obiettivi e quindi anche il tempo che noi investiremo per raggiungere un obiettivo piuttosto che un altro. Fatemi sapere quelle che sono le vostre riflessioni qui sotto nei commenti, ragazzi vi leggo, vi dico fin da subito che i prossimi video saranno dedicati spesso a questo tema perché io ho iniziato appunto un percorso con l'Alfio Bardolla Training Group e proprio per aggiungere diciamo così delle certezze alle mie entrate e quindi riuscire a concretizzare quello che è l'idea e il progetto e l'obiettivo di una vita che si può dispiegare attraverso tante certezze al posto che attraverso tanti dubbi. Ragazzi questo video finisce qui, ovviamente aspetto di leggere tutti i vostri commenti, se questo video vi è piaciuto e vi ha fatto fare qualche piccola riflessione importante, ovviamente lo potete anche condividere, non mi offendo, magari taggatemi così io a mia volta vi ritango. Lasciatemi tanti e tanti like di supporto ma soprattutto se volete vedere altri video vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò qualcosa di nuovo qui su Elder Channel, a meno rimane che mandarvi un bacio e tantissimo ma tantissimo amore. Grazie a tutti.